La passione, l'intensità dello sforzo e dell'agonismo di uno sport duro e affascinante come la palla a nuoto, rappresentati in 12 scatti che ritraggono i volti degli atleti della squadra dei Black Shark Capitolini e della Nazionale del Settebello. È il calendario Water Warriors 2013, realizzato dall'agenzia Double e presentato in conferenza stampa al Campidoglio. La Nazionale di Palla Nuoto ci dà grandi soddisfazioni, ovviamente, sia a livello europeo, a livello mondiale, sia quella maschile, oggi avremo il CT Campagna, che sia ovviamente anche quella femminile. è una delle discipline più praticate, ripeto, nei vari centri dei 19 municipi, così come c'è la massima attenzione della Federazione Italiana Nuoto. Tantissimi risultati arrivati anche dalle recenti Olimpiadi, per la verità ci aspettavamo anche un qualcosina di più, ma ciò che conta per il Dipartimento Sport è che iniziative sportive vengano magari collegate a una solidarietà, pensando soprattutto in questo periodo, ma con lo sport succede durante tutto l'anno, di pensare alle persone che sicuramente soffrono, ai cittadini sociali meno abbienti, non solo nel nostro paese, spesso non solo nel nostro continente, nonostante sia un momento delicato, ma ovviamente addirittura in quei continenti e in quei paesi in via di sviluppo, dove spesso la mortalità c'è a causa di malattie poco curate, o addirittura dove c'è difficoltà per avere un pasto ogni giorno. Il calendario è in vendita nelle edicole romane al prezzo di 10 euro, e il ricavato andrà a favore dell'associazione Tiene Tiala, a sostegno delle suore francescane del Sacro Cuore, nella gestione di un piccolo centro ospedaliero a Maigaro nella Repubblica Centrafricana. È un momento delicato come quello che stiamo attraversando, anche un po' il Natale, e tutto quello, il bello che abbiamo ricevuto noi del Settebello, vogliamo trasferirlo a chi ne ha bisogno, insomma, quindi queste sono iniziative benefiche che fanno del bene. tra l'altro fa anche un po' di promozione, soprattutto nei giovani, per quanto riguarda la pratica del nostro sport, il che è coniugare le due cose, per noi è assolutamente positivo.